Stai trovando otra vez Ehi persona oh oh viene il culo viene il otro no no ah lo manchino che pota me la sua no, quello è vero no, quello è vero mi credo mi pensata lo mato non entiendo cosa mi ha dato no sei tu invita a alguien per giocare aah ma c'è una scola uic 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 qui sta San Molina che fanno con l'ho o che? si regalo come quiera San Molina ha avanti che è pro e ha avanti che non già lo sai non ho capito la corredera baja a 90 va che si? si 95 por ahi e la otra che seria la escopeta azul baja a 80 y algo jajaja e me bajo wey me quede a 5 de vida que pedo jajajaja jajajaja a chi le llame jajajaja ya me noté jajajaja y quien huele a popop si o no? no manches i diris que tu es contra mi jajajajaja la menuda que aff que aff entonces con quien? jajajajaja jajaja a va si! ya valieron todos Ah, c'è uno qui Stai contigo Qui stanno qui dentro non può essere non può essere che quello che lo abbiano matato così rapido no, è la vita, è la vita di che ti dio su... è diosito grazie fotografi Il suo lavoro è un malco Il suo lavoro è stato che nella stessa Ecco altro Non mi faccio Non mi faccio Perché non mi faccio Che è un malco Alla fine Chi è un malco Non mi faccio Dice Non mi faccio Lo faccio Non mi faccio è vero? questo... non voglio giocare sempre quando ti dico qualcosa o lo che voglio lo... la caga del camion ah chile non le voglio dare una grazia non le voglio dare una grazia ai me equivoque del botone come sei un pedo quin nel ah no amigos sono pirrei mi equivoque del botone me è dice brian lo che lo che saco del dinero di呢 viene no sono dollars di vale Ah p***e vado maleppo Ete p***e p***e vikingo negro Ay no ma Eto in rapidi meno mater No mamma Non tinea nada Ete p***e Ete p***e Muere 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 Y hasta el p***e voy a caer Jajajajaj Mira ves? Jajajajaj 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 Oye eso es un insulto para mi Que sea mejor que tu es un insulto para ti Jajajajaj 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 Jajajajajaj Jajajajajajaj Jajajajajajaj Jajajajajajajaj Ehi, hai tretti che di una casa che non è una casa io disse che ti hanno dovuto morire più seguido, non lo so Ancora questo si che non si ha un bifone Questa coppita è la verga E' più, fino a lì è stata una credo che mi llevare questo stai facendo un mechizzo in contra di mi potterdell le prendo questa armata è mia nuova favorita se lo hubiera equivocado i vatici che verde mi franco non me no bene per me vorrei a giocare vorrei qui a rima che mi conta pekin non sai che mi malo e buona suerte No Que en Fortnite Siempre tengo Cuando me tocan buenas armas Y estoy estando un poco pro Osea de que mato a muchos Construo un limbo Siempre wey Va a haber uno que me supere Construo mejor que yo Me parte la madre Dice ya maduré Es que fui al Sufere mi mamá Ya no hablo por mi Tengo que cambiar Me falta una zeta y ya X-D Vamos Fre-Fry Te juego de pobres Bueno De hecho está chido Porque es como Mejor que Pug En el Pug recibes Te disparan wey Te mueres Y no sabes de dónde J. J. Y para desistar Khorny Que es para construi Y no sé qué Pero luego llegó Fre-Fight Y todo se ve igual Ehi, le persone... Ah, sono la verga... E che... E' stato preso il copre... E me... Me desconecté... Ah, la verga... Ehi... A presto me matan... Dejame disfrutar... Ehhh... Nom, 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 nom... Deja divertirme... Un momento que casi no había... Uy, que buen momazo... Uy, si... Ehi... Es que lo estoy sacando de Google XD... Ehi... Algo anda mal... Ehi... Amigo... Amigo... Parecen... Por siempre... Las buenas... Ehi... Ehi... Cuando tu novia... Te deja... Porque dice que todavía eres muy... Muy... Maduro... Es porque soy verde, ¿verdad? Ehi... 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 Que pedo... Verde... Si sale Pico... No hay que ser... Ah, ya... No sé si llegue a señor... Igo... Ay, ay, ay... Picos vuole a popó, suscribanse P1210 e notaranno Tu tambien vuole a popó Que verga si escucha Jajajaja Jajajaja Dai de Kakashi Ah ya puedo hacer el El de Kakashi Puedo hacer una invocacion Dame hacer los trucos Ah pendejo Y neta No Jajajajaja 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 Un drop No la per questa volta non me lo vieno ancora se wey vi acabo a salvare tutto OTA MADRE! che pedo si è che io è la 1 che te passo pollo 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 eeeh idioto ah si è stato il rispondo come il rispondo che te pido che stavi Cosa stai facendo? Dijes ahorita? Nada E non voglio dire quanto Cosa Cosa dice? Cosa dice? Non voglio dire quanto Cosa dice? Il malecino Ha la pasta che me avrà la legge vamo a caer juntos questa vez es que io me la passe jugando ah verga è una persona è tirata che io lo dice oh che si vive es que no pote ovviamente di verano tu te fuiste no me no te mueres bien rapido eres bien débil que te mueres bien rapido no me no tu papas hombre gracias tu papas va a ser el pollo dilo 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 che piozo mi teno l'amnone a mezzine Ese no è normale che es di XD Weee Ya tu sono granitos Sono un chingo No 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 Mamma mia mi sale un bastante Non sai perché Erpe me lo sto pellizzando herpes così di facile non l'argo è molto grosso che? non ho visto il del arroz di Guadalupe il del momo il momo? no me da miedo fuck 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 si lo vi ok iba a caer con una escopeta azul y luego apareció un vato de repente y dije no ni madre tome chingados esta en el fuego las cosas como son no te enojes no te enojes pico no tienes nada no te puedo tirar nada viene 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 no soltes ese ese es que creo que ya estamos viejos para jugar no creo que estamos pendejos no 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 i h eh i j è molto bello bello vui contigo i know ahi non vete a le f... ahahah e mi ha dato da new xd amigosson amigoss ho bisogno di una copetta ho bisogno di una copetta ho bisogno di una copetta grazie ho bisogno di una copetta si una sobra ah si tengo no si sobra no bueno vamos al centro ah 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 eh ah ho ah 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 grazie ah 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 oh mira lo che ho, pollo anche mi hanno di questo ... Sì, dire! Quittate! Quittate! Ah, vui! Sì, vui! No, non so Ah, dai Noi Sì no, non vedo a nessuno che andava? chi è che siingata? si siingata? no si siingata tiene lanza cohetes nooo per ti si non sono vivo no no sobravivemos a pitos picados eh si, por qué je es un de todos casi mueren y na le vivo el vencedor de 15 si 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 ma io ho sentito passi nel mio edificio qui cazula 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 ui lascao quita ok atto vien para vien para vien para vien 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 è una macchina di gaspondi stiamo a 50 io dico a 50 BEMBOOOOO